benvenuti ad app per prof un'app in cinque minuti appena ovvero una vetrina non un tutorial che introduce sinteticamente strumenti tic per i docenti 3.0 ben trovati a tutti vocal recall è un'app gratuita per dispositivi mobili ios e android che permette di fornire commenti audio tramite codici qr pregenerati per una durata massima di 5 minuti può essere utilizzato in moltissimi modi anche perché è pratica e intuitiva oltre all'applicazione è necessario stampare i codici qr pregenerati sono questi che vengono inviati direttamente alla mail del docente in pochi istanti dopo la richiesta per fruire dei feedback audio servono qualsiasi lettore di codici qr e ne esistono molti con le stesse funzioni e gratuitamente scaricabili per qualsiasi sistema operativo oppure telefonino mandiamo senz'altro introdurre l'applicativo per poter utilizzare vocal recall abbiamo bisogno di installare sul nostro telefonino l'applicazione corrispondente possiamo procedere da play store oppure da apple store a seconda del nostro dispositivo una volta che siamo all'interno del dispositivo possiamo selezionare vocal recall quello contraddistinto da questa icona applicazione che ci interessa possiamo procedere quindi selezionandolo installandola consiglio anche di installare un lettore qr uno qualsiasi sono molto pratici e utili ci permettono di non soltanto i codici qr di vocal recall ma anche di altre applicazioni consiglio quindi di farlo scaricare anche agli studenti e agli alunni che fruiranno vocal recall perché è indispensabile per poter utilizzare questo applicativo selezioniamo a questo punto vocal recall ed ecco che ci viene presentata una schermata di interfaccia molto semplice contraddistinta da tre grandi pulsanti quello rosso per cancellare quello per registrare e quello per associare la traccia che abbiamo registrato a un codice qr passo propedeutico è selezionare questa icona che è una barra di menu abbiamo la possibilità di accedere direttamente anche da qui alla registrazione oppure all'archivio di tutto ciò che abbiamo registrato e anche una piccola guida che ci permette di seguire passo passo come utilizzare l'applicativo iniziamo da get codes dobbiamo chiedere di inviarci tramite mail un numero necessario dei codici pre stampati possiamo chiedere fino a 280 e ogni volta ne abbiamo veramente a disposizione di diversi quindi un numero illimitato selezioniamo la nostra mail e il pulsante con scritto send codes questo che ci permette di avere in pochi secondi la mail che andremo naturalmente a ritagliare incollare o ad associare le tracce audio torniamo all'interfaccia di base procediamo con il pulsante registrazione ed ecco che da questo momento possiamo registrare si vede il cinque minuti di countdown che procedono e possiamo dire voca recall è un'app gratuita per dispositivi mobili ios android che permette di fornire commenti audio tramite codici qr pre generati per una durata di cinque minuti quando abbiamo finito mettiamo stop questo pulsante e procediamo con il secondo c'è l'associazione del codice qr a questo punto il nostro telefonino si trasforma in un acquisitore di codici abbiamo la mappa pre generata è quella che abbiamo visto prima che associamo le ad esempio a questo diamo un nome ed ecco che la nostra traccia è stata generata possiamo dire che abbiamo concluso oppure procedere a registrarne altro vediamo com'è possibile ora avere accesso alla traccia che abbiamo registrato selezioniamo qualsiasi lettore di codici qr poter trasformare il nostro telefonino in un lettore inquadriamo il codice qr che ci interessa ed ecco che abbiamo accesso direttamente la nostra traccia selezioniamo play e questo è tutto vocal recall è un'app per certi versi innovativa che rende decisamente più pratica e intuitiva la creazione di commenti audio o meglio evita di generare qr e tutto rimane all'interno dell'app in modo sicuro e controllato è utile per poter dare istruzioni orali per le consegne rivolte a tutti gli studenti oppure personalizzate infine si possono dare feedback su alcune attività capita spesso di commentare a voce lo svolgimento di compiti in questo modo si può tenere traccia di quanto detto incollando direttamente un qr personalizzato su un compito oppure sul diario non serva molto tecnologia se non lo smartphone perché non usarlo ad esempio per le comunicazioni scuola famiglia vocal recall è utile per all'universo stranieri utilizzando il traduttore di google per registrare ad esempio dialoghi anche in lingua vi invito a provare vocal recall e alla prossima buon lavoro